Basta, vacche sacre, giro di vita senza precedenti nella piana, scatta il blitz proprio mentre si sfiora un'altra tragedia, un'automobilista ferita dopo aver investito un toro che resta agonizzante e viene abbattuto a colpi di fucile. Ucciso dai debiti, tragica fine di un ristoratore di Tiriolo nel Catanzarese, non ce la faceva a pagare le banche e ha deciso di togliersi la vita. Sospetta Parentopoli, caso di Maropati e dei congiunti del sindaco all'interno del municipio, la difesa del primo cittadino che al mormorio del paese si prepara a rispondere anche con un manifesto. Magnifica Tropea, TripAdvisor, il sito di viaggi più importante al mondo, incorona quella della Perla del Tirreno come la seconda spiaggia più bella d'Italia. Nella Top 10 domina la Sardegna e nessun'altra località calabrese. Bentrovati da Tiziana Bagnato all'edizione serale della nostra informazione. Un'emergenza che si trascina da troppo tempo, parliamo delle vacche sacre, simbolo dell'andrangheta e della cultura mafiosa. Oggi si è sfiorata ancora la tragedia, proprio mentre le istituzioni mettevano in campo un'operazione senza precedenti. Alla fine un toro è stato abbattuto in strada. Agostino Pantano. Finisce così, tra i colpi di fucile e di pistola, la lunga agonia di questo toro. Gli sparano perché si è ferito irreparabilmente dopo aver causato l'ennesimo incidente su questo retti filo alle porte di Cittanova. Tanta paura e un forte shock per la donna che guidava l'auto, rimasta illesa ma senza poter dimenticare per sempre il drammatico scontro che ha vissuto. Anche in queste ore, nel primo giorno di caccia per la task force autorizzata alla cattura delle vacche sacre in qualsiasi modo, raggiungere il paese aspromontano era ovunque pericoloso. Ordinanze per la chiusura di strade, posti di blocco di polizie carebbinieri in campagna, lavoratori allontanati dai campi anzitempo, un paese blindato per l'inizio dei rastrellamenti voluti dalla prefettura. Non vengono sacri e non è il Dio che non l'aveva nessuno. Tra gli uliveti uno scontro finale contro i bovini vaganti che appartengono anche all'andrangheta. Ringraziamo prefettura e tutte le forze dell'ordine che pare che sia partita questa operazione e da 40 anni proprio che finalmente... Dopo l'impatto stradale si vede un toro minaccioso attirato dai lamenti del compagno di Branco perché la caccia è solo all'inizio e si annuncia lunga. Agostino Pantano per la Cineos 24. Preseguiamo adesso con la cronaca drammatica alla fine di un ristoratore di Tiriolo nel Catanzarese che soffocato dai debiti con le banche ha deciso di togliersi la vita. La cronaca nel servizio di Luana Costa. Lo conoscevano anche tutti quanti a Mimmo. Infatti dicevano Mimmo è la Tostello per conoscerlo meglio. Mi dispiace, era un bravissimo ragazzo. Buono, buono. Ogni mattina che ci incontravamo qua, ogni tanto mi chiamava pure per lavorare. Ha sconvolto e turbato l'intera comunità di Tiriolo la decisione di Domenico Chiarella, probabilmente meditata da tempo, di togliersi la vita proprio a pochi passi dal ristorante a cui si era dedicato con passione per anni. Il ristoratore 54enne è stato trovato riverso in una pozza di sangue nel cortile esterno alla sua attività ad alcuni abituali frequentatori. Un solo colpo alla tempia per lenire gli assigli economici che lo inchiodavano alle sue responsabilità. L'autostello, ristorante molto conosciuto nel paese, aveva da tempo smesso di dare soddisfazioni, trascinando il piccolo imprenditore in una spirale di debiti, progressivamente contratti con vari istituti bancari. Proprio in queste ore i carabinieri del comando provinciale di Catanzaro stanno passando al setaccio i conti correnti intestati al 54enne. Per quantificare l'entità di quel peso è diventato tanto insopportabile da condurlo a togliersi la vita. Luana Costa per la Cinius 24. E ancora una morte sul lavoro, si tratta di un uomo di 61 anni le cui generalità non sono ancora state rese note, originario di Napoli ma residente a Corigliano Calabro, morto sul colpo cadendo da una scala mentre effettuava dei lavori su un fabbricato di una ditta di materiali edili di cui era dipendente a Corigliano Calabro. Andiamo adesso a Cosenza dove ci occupiamo di un nuovo sospetto caso di mala sanità. La procura Abruzzi indaga in particolare sulla morte della madre del consigliere comunale Spadafora, Salvatore Bruno. C'è il sospetto di un caso di mala sanità dietro la prematura scomparsa di Rachele Funaro, 69 anni, madre di Gisberto Spadafora, consigliere comunale di Palazzo dei Bruzzi e presidente della Commissione Trasporti. La donna è deceduta in ospedale a Cosenza tre giorni dopo il suo arrivo in pronto soccorso in codice rosso. I familiari hanno deciso di rivolgersi alla procura. Le indagini sono coordinate dal PM Emanuela Greco. Già disposto il sequestro della Salma, nelle prossime ore si procederà l'autopsia per chiarire le cause della morte. Secondo quanto si è appreso, la signora Rachele è giunta all'annunziata domenica scorsa in ambulanza, in preda a forti dolori all'addome. Soltanto nel pomeriggio della giornata successiva ne è stato disposto il trasferimento nel reparto di medicina d'urgenza. A quanto pare però in questo lungo lasso di tempo non sarebbe stata sottoposta ad alcun esame diagnostico, finché martedì pomeriggio la situazione è precipitata. La signora Rachele è entrata in sala operatoria per la rimozione, rivelano i familiari di un coagulo di sangue, quindi il ricovero nella rianimazione dove poi è sopraggiunto il decesso. La magistratura ha disposto anche l'acquisizione delle cartelle cliniche con l'obiettivo di verificare se davvero sia stato fatto tutto il possibile per evitare il tragico epilogo. Salvatore Bruno per la Cineus 24 Un'andrangheta solida e agguerrita, sciolte le camere in vista del voto, la presidente Rosi Bindi, presenti i referenti del governo e il capo della superprocura, Caffiero De Rao, ha presentato la relazione finale dell'attività di inchiesta svolta dalla Commissione parlamentare antimafia. Consolato Minniti L'immagine di un'andrangheta povere plebea è stata utile e ha offuscato l'individuazione di una presenza importante ed inquietante nel mondo delle professioni, in tutte le professioni. Drangheta e massoneria sono due potenze che si incontrano e si amalgamano. Il 15% dei nomi degli iscritti alla massoneria è ancora oggi ignoto. Sono questi alcuni stralci della relazione finale della Commissione parlamentare antimafia, presentata ieri dal presidente Rosi Bindi, alla presenza del ministro dell'Interno Marco Minniti, del ministro della Giustizia Andrea Orlando e del procuratore nazionale antimafia Federico Caffiero De Rao. L'andrangheta si conferma solidissima e agguerrita. Le cosche operano con una presenza sfissiante e con un controllo pregnante delle attività economiche. Nella relazione si fa un'approfondita analisi della strategia politico-criminale, ossia soggiogare e mantenere in condizioni di arretratezza e isolamento la Calabria. C'è poi spazio anche per le infiltrazioni mafiose negli enti locali, tema su cui si è soffermato il presidente Rosi Bindi. Oggi è il potere locale che è preso soprattutto d'assalto da parte delle mafie e spesso sono gli stessi politici che vanno a cercare il consenso delle mafie. C'è il rischio, e il rischio è purtroppo concreto, che le mafie possano condizionare il voto libero degli elettori nel nostro paese. noi comprendiamo che quella è una minaccia alla cosa più importante che c'è in una democrazia. Consolato Miniti per la CNews 24 E questa mattina l'udienza sulla richiesta di incandidabilità avanzata dal ministero dell'interno a carico dell'ex sindaco di La Mezzia Terme, Paolo Mascaro, la cui amministrazione è stata sciolta per mafia. Sereno ha detto perché almeno qui dovranno ascoltarmi. Oggi quantomeno, pur in un procedimento che reputo assurdo, fantasioso e che inevitabilmente si concluderà con il rigetto della richiesta, comunque almeno ho la possibilità di parlare. Prima udienza oggi al Tribunale di La Mezzia Terme in merito alla richiesta di incandidabilità avanzata dal ministero dell'interno nei confronti dell'ex sindaco Paolo Mascaro, decaduto con lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del comune. Una richiesta che ha riguardato anche l'ex vicepresidente dell'assise Giuseppe Paladino e l'ex consigliere Pasqualino Ruberto, entrambi coinvolti in inchieste giudiziarie di peso che li vedono imputati tra l'altro per il presunto accordo con la criminalità organizzata al fine di intercettare voti. E a pochi giorni dalla richiesta di incandidabilità per Mascaro è arrivata anche l'avviso di garanzia nell'ambito delle inchieste omenidi con l'accusa di abuso d'ufficio e false dichiarazioni al PM e su quest'ultima ipotesi di reato l'ex primo cittadino dichiara. False dichiarazioni mi viene a volte da sorridere, sono stato io il 13 aprile del 2017 a richiedere di essere sentito, vengo a essere sentito il 24 maggio del 2017, il 2018, credo che questa è la dica tutta. Tiziana Bagnato per la CNews 24. E parliamo adesso della provincia di Crotone dopo le annunciate dimissioni dei consiglieri provinciali si attende il risponso del Ministero degli Affari Regionali. Giuseppe Laratta. Rimane in stand by il futuro della provincia di Crotone dopo la dichiarazione di dimissioni di massa da parte del Consiglio. Una decisione presa all'indomani dell'arresto del presidente dell'ente Nicodemo Parrilla coinvolto nell'operazione Stige. Nella giornata di mercoledì il presidente facente funzioni Armando Foresta ha convocato i consiglieri per prendere una decisione importante ovvero dimettersi o continuare nell'azione amministrativa anche a fronte della situazione incresciosa che riguarda gestione e servizi. Società in house dell'ente intermedio i cui lavoratori non percepiscono lo stipendio da due anni. La riunione non ha portato nulla di che poiché la palla è passata al Ministero degli Affari Regionali che dovrà esprimersi sullo scioglimento del Consiglio Provinciale. Questo poiché con la legge del Rio che ha ridisegnato le province non è stato previsto il commissariamento degli enti intermedi in caso di dimissioni di massa. Dunque Crotone potrebbe rappresentare un precedente nella giurisprudenza italiana. Bisognerà quindi aspettare una decisione dal sottosegretario agli Affari Regionali Gian Claudio Bressa intanto però le attività ordinarie dell'ente intermedio andranno avanti. Se non dovesse esserci nessuna segnalazione dal Ministero si dovrà procedere con la sola elezione del nuovo Presidente della provincia per poi procedere in un secondo momento con l'elezione del Consiglio. Giuseppe Laratta per la Cineus 24 Tragedia sfiorata a Soveria Mannelli nel Catanzarese dove quattro persone sono state intossicate dal monossido di carbonio probabilmente sprigionato da una caldaia. Per due di loro in condizioni gravi si è reso necessario il trasporto in elisoccorso in ospedale. E adesso andiamo a Maropati nel Regino. Il nostro inviato Agostino Pantano ci racconta un'altra sospetta parentopoli. Ma se i piccoli paesi siamo tutti parenti nei piccoli paesi se fosse stato Milano posso capire. Nel municipio di Maropati il sindaco Fiorenzo Silvestro si difende così. Nel paesino della Piana di Gioietauro non si parla d'altro che dei suoi parenti beneficiari dell'ente. Lui sta preparando un manifesto per spiegare ma la sua strategia la spiega così. Ma perché non mi fate interessare? Perché no, perché non ho intenzione di fare pubblicità su questa cosa. Intendo difendermi nel processo. Se ci sarà e quando ci sarà un processo. Dunque la procura indaga sul cognato di Silvestro a capo dell'ufficio tecnico e sul cugino imprenditore chiamato da un consorcio esterno a fare dei lavori. Del fatto che partecipa solo mio cognato che cosa devo fare? Mi devo astenere da tutta la procedura e dovendo fare i lavori a Maropati sull'impianto ha ritenuto di affidare il lavoro a questa impresa. Il sindaco insiste nella sua difesa. Quando vi trovate ad esempio in un'occasione che ne so, un conviviale in famiglia mi penso che sia un reato questo. Sentite cosa dice il sindaco di Francesco Mangialavori il capo dell'opposizione che al prefetto ha chiesto la rimozione del primo cittadino. È stato sindaco di Maropati. Beh, lui aveva il dirigente del servizio tributi che era suo parente. In giunta aveva una parente. Tra l'altro lui non è genero di Gallizzi. Sì. Dell'ex sindaco, no? Sì, esatto. E loro hanno amministrato 50 anni. Figura storica, diciamo, anche presente della provincia. Agostino Pantano per la CNews 24. E ora la pagina della politica. Parliamo di elezioni. I sondaggi attribuiscono il collegio uninominale per la Camera di Cosenza alla candidata del Movimento 5 Stelle, Anna Laura Orrico. Conosciamola grazie allora all'intervista realizzata da Stefano Mandarano. Sicuramente la politica va restituita ai cittadini. Io credo che la politica perpetrata fino ad oggi, fatta di fango, bugie, illazioni e offese, abbia solo contribuita ad allontanare noi cittadini dalle istituzioni e quindi dalla partecipazione politica. Per ritornare alla partecipazione politica bisogna parlare dei problemi della gente. Ma non solo parlare dei problemi, confrontarsi con le persone per maturare delle soluzioni. Delle soluzioni che siano propositive, che vadano ad abbattere tutti quei sistemi di clientelismo, di corruzione, di collusione con la criminalità organizzata che hanno devastato la Calabria e l'intero paese. La Calabria si deve risvegliare e per questo che io chiedo un voto libero, un voto secondo coscienza e un voto informato. La mia storia è sul web. Sono una giovane imprenditrice. Mi sono costruita da sola la mia attività professionale e la mia attività imprenditoriale. Non ho grandi patrimoni alle spalle, ma ho soltanto tanta determinazione e tanta tenacia per restituire orgoglio alla mia terra. E adesso andiamo a Reggio Calabria dove stamattina l'Università Mediterranea è stato ospite il presidente dell'Inps, Tito Boeri. Grande soddisfazione per i risultati prodotti dall'intesa tra Inps e Regione Calabria in ordine all'accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile. I risultati dell'accordo sono stati esposti in conferenza stampa all'Università Mediterranea di Reggio alla presenza del presidente dell'Inps, Tito Boeri. I tempi di attesa si sono ridotti dalla presentazione della domanda al verbale di accertamento si sono ridotti da 117 giorni a 25 giorni. Permette ai medici di poter svolgere meglio la propria funzione, le proprie attività e in questo senso anche quindi permette di migliorare la qualità degli accertamenti sulla base di parametri uniformi. L'Inps è un'amministrazione centrale dello Stato quindi adotta gli stessi metodi in tutta Italia. Il commissario Scura rivendica la bontà delle scelte fatte dal suo ufficio. L'accordo con l'Inps ha innanzitutto un valore culturale. cioè ci sono finalmente la Calabria in alcuni settori si muove per prima. Il merito significa che certi rilasci certi scenari sull'invalidità vengono gestiti da un terzo che è l'Inps e non da chi cioè dalle aziende che sono quelle che poi hanno tutta la persona semi-invalide con la 104 con questa e con quell'altro. Riccardo Tripepi per la CNews 24 Congresso CISL oggi alla mezza terma eletto il segretario generale per Catanzaro Crotone e Vibbo si tratta del crotonese Francesco Mingrone Il sindacato c'è la CISL c'è adesso talloneremo la nuova deputazione calabrese talloneremo le istituzioni calabresi e le istituzioni territoriali E Francesco Mingrone il nuovo segretario generale della CISL territoriale di Catanzaro Crotone e Vibbo ad eleggerlo il consiglio generale del sindacato riunitosi in un noto hotel dell'Ametino Mingrone 42 anni nata a Crotone cresciuto a Ciro Marina ha alle spalle 18 anni di attività sindacale un territorio variegato ed impegnativo quello delle tre province di Catanzaro Vibbo e Crotone su cui Mingrone si esprime così le maggiori difficoltà arrivano specialmente dalle periferie da Vibbo Valencia e da Crotone io penso che si dovrebbe un po' tornare a recuperare le potenzialità del nostro territorio le potenzialità che sono anche di tutta la Calabria quindi un ritorno all'agricoltura serio un ritorno all'agricoltura dove ci siano investimenti per i giovani un turismo che sia d'eccellenza Voltiamo pagina ieri vi abbiamo raccontato una storia di povertà ma anche di dignità e di coraggio quella di Marta sono vicende di resistenza civile delle quali continua ad occuparsi il nostro Enrico De Girolamo Conosco famiglie che non hanno il riscaldamento più che rinunciano alle medicine e soffrono terribilmente nel vedere soprattutto i figli che si sentono a disagio a scuola Lui è Don Giuseppe Fiorillo è un prete vibonese di quelli di cui la gente si fida davvero perché non si limita a declamare sacri principi da un altare non giudica non lancia anatemi lui le cose le fa da sempre ha due nemici giurati e entrambi mortali la povertà e la mafia e contro di essi combatte da decenni purtroppo i segni di questi tempi ci fanno non sperare ma noi educatori genitori sacerdoti operatori dobbiamo dare questa speranza guai se molliamo e lottare che c'è la speranza significheremo farsi le maniche e dire le cose e parlare e condannare i soprusi condannare le angherie condannare soprattutto le mafie che stanno prosciugando il territorio 55 anni di sacerdozio alle spalle il titolo di monsignore in un cassetto è una lunga militanza nell'associazione antimafia libera Don Fiorillo lo conoscono tutti ma non tutti a quanto pare lo ascoltano soprattutto i politici i problemi seri mi accorgo che non li trattano dobbiamo avere questo coraggio a dire non va bene come stiamo vivendo non è una buona vita questa dobbiamo creare una buona vita Enrico De Girolamo per la C News 24 E adesso vi raccontiamo la storia di un uomo che vive una nuova vita dopo un trapianto Rossella Galati I ricordi sono bruttissimi però diciamo man mano andando avanti ho capito che ero entrato in un tunnel però grazie a dei dottori la luce l'ho rivista di nuovo Sembrava un tunnel senza via d'uscita ma la luce alla fine è arrivata e il signor Angelo Malerba di Vibo Valencia ha vinto la sua battaglia contro il tumore al fegato nell'estate 2015 Io sono nato il 31 di luglio del 2015 Un trapianto di fegato per la famiglia Malerba è stato l'inizio di una nuova vita dopo mesi di cure e terapie tra gli ospedali di Cosenza Vibo Valencia Catanzaro e Torino Il primo momento io pensavo che mio marito potesse curare in Calabria ci siamo trovati bene sia Vibo sia Cosenza dopo quando il dottore ha detto che il fegato non funzionava più e non c'era più possibilità lui ha fatto la documentazione dei trapianti a Torino abbiamo fatto sacrifici che senso non è facile organizzare una famiglia e a priorità viene lui mio marito e siamo andati tutti e cinque ci spartiamo prendiamo quei soldi che ci servivano e abbiamo fatto il viaggio con la macchina insieme io non sono andata mai in viaggio in Ossi non ho fatto mai vacanze per lui abbiamo viaggiato ho conosciuto Torino quello che uno vuole dire specialmente ai nostri politici regionali avendo dei bravi dottori perché li dobbiamo far andare sopra a nord dove possono lavorare benissimo qua e l'intervista integrale ad Angelo Malerba andrà in onda domani alle 13.30 e alle 20 nel corso di una nuova puntata della rubrica L'ACI Salute in studio ospite della nostra collega Rossella Galati ci sarà Giovanni Vallone direttore dell'unità operativa di ablazione per cutanea interventistica dell'annunziata di Cosenza si parlerà di tumore al fegato e termoablazione Voltiamo decisamente pagina dopo avere presenziato al processo per il canile di Terredoniche di Mendicino il deputato pentastellato Paolo Bernini ha effettuato nel pomeriggio un blitz per verificare lo stato del rifugio per cani di Rocca di Neto nel Crotonese Blitz al canile di Rocca di Neto da parte del deputato del Movimento 5 Stelle Paolo Bernini per controllare lo stato effettivo della struttura che ospita gli animali questo sopralluogo è stato effettuato poiché al parlamentare pentastellato era stato riferito che i cani non vivessero in uno stato ottimale con un tour molto dettagliato accompagnato dai responsabili Bernini ha potuto constatare di persona lo stato degli amici a quattro zampe la situazione che ho visto io non è diversa da tanti altri canili che ho controllato però rispetto agli altri la struttura è tenuta molto meglio anche i cani sono seguiti molto di più sono operatori stipendiati che tengono i cani però i cani sono veramente tanti sono più di 3.000 le adozioni sono poche sono da 40-70 all'anno in più siamo in una zona in cui non ci sono molto volontari e quindi io invito ai volontari di zona di venire qua a dare una mano per cercare di far adottare più cani e l'unica pecca qua è che manca un'area di sgambamento per far sgambare questi tanti cani quello che vi dico non comprate venite adottare venite a fare un giro al canile perché ci sono veramente tanti cani che hanno bisogno d'amore che non possono stare clusi tutta la vita qua dentro Aumentare le possibilità di esportazione per le piccole e medie imprese calabresi è questo l'obiettivo della due giorni organizzata da Confartigianato che ha visto la presenza alla mezzia terme di buyers da tutto il mondo Far conoscere e mettere in contatto queste imprese con buyers stranieri ci sono buyers del Belgio della Francia Inghilterra e anche della Corea del Sud Due giorni per mettere a contatto le piccole e medie imprese calabresi con il mercato internazionale a tenere la regia Confartigianato Imprese Calabria con la collaborazione del Lice Cerchiamo di mettere in luce le eccellenze in questo caso della regione Calabria e crediamo che queste occasioni di incoming possano permettere di incontrare operatori dall'estero che altrimenti non potrebbero magari conoscere queste eccellenze Dai formaggi all'olio ai salumi fino alla passata di pomodoro al vino al succo di bergamotto le piccole realtà nostrane hanno esposto e fatto assaggiare e degustare le loro delizie trovando l'entusiasmo degli imprenditori stranieri ci aspettiamo ci aspettiamo di far conoscere loro un prodotto inimitabile proprio perché legato a fattori climatici e pedoclimatici unici e irripetibili nel mondo l'incambio permette alle imprese che sono più piccole e quindi che sono meno strutturate di ricevere in casa gli operatori esteri iniziano abbagnato per la cnews 24 ci occupiamo adesso del porto di gioia tauro sono due i terminalisti di questa infrastruttura fondamentale per il futuro dell'intero mezzogiorno d'italia uno è in forma e un altro no come ci racconta Agostino il fermo immagine del fitto conciliabolo è di quelli inediti e l'attuale guerra fredda sulle banchine del porto di gioia tauro lo rende suggestivo il milanese Antonio Testi e il crotonese Francesco De Bonis sono i manager delle due società terminaliste che controllano lo scalo da quando dopo 23 anni l'autorità portuale ha messo in discussione la concessione del colosso dei container RMCT l'altra azienda insediata sul molo accanto la BLG che movimenta l'auto è sembrata farsi sotto per avere nuove aree eventualmente liberate la questione è che man mano che le attività si incrementano è chiaro che necessitano diversi spazi la società di De Bonis è in forma quella di testi no in questi giorni è obbligata a rispondere all'autorità portuale che vuol capire come sta utilizzando i tre chilometri di banchina che si parla sempre faccio faccio ma chi fa da governance a noi manca nell'area portuale una governance messaggio chiaro di fiducia nell'ente pubblico indagatore e forse di sfida al terminalista confinante costretto a scoprire le carte non ha senso di dire sì no quella c'è troppo quella c'è poco no questo è un qualcosa che deve appunto come governance far capo l'autorità portuale bisogna vedere quelle che sono le programmazioni quelle che sono diciamo le idee Agostino Pantano per la C News 24 località simbolo del turismo calabrese Tropea viene adesso incoronata seconda spiaggia più bella d'Italia una medaglia d'argento attribuita da un'autentica autorità del settore Tropea seconda spiaggia più bella d'Italia lo sostiene TripAdvisor il sito di viaggi più grande del mondo avvalendosi di oltre 500 milioni di recensioni imparziali dai turisti di tutto il globo Tropea sabbie bianche all'ombra della rupe della madonna dell'isola acque turchesi fondali limpii sole e relax solo la spiaggia dei conigli baia incastonata in un paesaggio mozzafiato sull'isola di Lampedusa supera la perla del tirreno che precede così altre otto rinomate località turistiche italiane la pelosa cala galorizze porto giunco cala mariolo tutte e quattro in Sardegna baia del silenzio sestre levante in Liguria cala rossa isola di favignana in Sicilia spiaggia di Maria Pia al Ghero Sardegna marina piccola capri in Campania un riconoscimento per Tropea che dopo gli anni difficili della crisi economica che non ha risparmiato il turismo continua ad essere una delle località più amate per i turisti di tutto il mondo da Vibo Valencia per la CNews24 questa era l'ultima notizia l'informazione della CTV termina qui grazie per averci preferito visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizia la CNews24 edizione giorno alle 14 ed edizione sera alle 20 e 30 la CNews24 la Calabria che fa notizia